Quello avuto da Giulia Salemi è stato un vero e proprio crollo emotivo. La ragione di questo suo gesto è semplice, è stata nominata da tutti i concorrenti. Un gesto che l'ha toccata profondamente. Mentre all'interno della casa più famosa d'Italia andavano avanti le discussioni, sul web è stata difesa da una persona molto famosa. Questa persona è Alessia Marcuzzi che non ci pensa due volte a scriver su Twitter ciò che pensa della Salemi. Ma posso sapere perché ce l'hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene pugnalata alle spalle ha scritto la Marcuzzi su Twitter. La conduttrice dice di essere molto dispiaciuta per il trattamento che sta venendo riservato alla Salemi e trova inspiegabili le ragioni di un tale accanimento nei confronti della Salemi. Ho capito comunque che qui si entra in un terreno minato dei vari fandom ha scritto sempre su Twitter. Voi cosa ne pensate? Secondo voi Giulia è presa ingiustamente di mira? Forse solo perché si è avvicinata a Pierre?